Non è stata una settimana da conservare nei ricordi più fulgidi della propria storia calcistica, quella che per il Casalbordino va a precedere la sfida odierna con lo spoltore. I giallorossi di Mister Di Biccari hanno collezionato due rovesci consecutivi che hanno lasciato pesanti conseguenze anche dal punto di vista disciplinare, oltre che di classifica. Lo spoltore avversario si è reso protagonista dell'impresa di giornata nel turno infrasettimanale, regalando il primo dispiacere stagionale alla capolista Virtus Cupello. La società giallorossa approva tutte le soluzioni possibili e immaginabili per cercare di invertire il pericoloso trend e persino il vecchio e consolidato spargimento di sale in campo e a ridosso delle panchine del vicepresidente Ranalli è una delle opzioni prese in considerazione. Maladea bendata ha voltato le spalle alla truppa casalese ancora senza mordente che si fa infilare dopo un quarto d'ora dall'attaccante avversario Colecchia, avversario al culmine di una vorticosa mischia in aria che evidenzia le attuali lacune strutturali della truppa di casa che va anzi a soccombere anche due minuti dopo, ma stavolta l'assistente di linea ravvisa una posizione regolare delle truppe d'assalto pescaresi e invalida la realizzazione di Selvallegra. I padroni di casa hanno seri problemi ad arrivare in zona tiro, ma quando riescono a farlo reclamando un penalty per un presunto contatto in area di Direnzo ai danni di Zinni non hanno coincidenza di vedute con la terna arbitrale che non richiene sussistenti le motivazioni adotte per ottenere un calcio di rigore. Penalty che al contrario viene assegnato senza indugia alla squadra di mister Del Gallo dopo l'intervento in area di La Penna ai danni di Sparvoli, ma dagli 11 metri la conclusione dello stesso Sparvoli si infrange sul palo alla sinistra di Tano che ringrazia per lo scampato pericolo. Colecchia si conferma ancora lo spauracchio del pacchetto arretrato giallorosso e al 35esimo va vicino al bispersonale con una temibile battuta dal limite che si impenna di pochissimo sopra i legni di Tano. L'estremo locale è sempre sul chi va là e al 39esimo deve distendersi per ridurre a più miti pretese la conclusione in area di Selvallegra. Così come è accaduto nel precedente turno casalingo infrasettimanale, anche in questa occasione le velleità di rimonta a Casalesi si infrangono con l'ennesimo cartellino rosso che pregiudica ogni tentativo velleitario di rimonta. Il quarantesimo infatti quando il signor Franchi di Teramo estrae il secondo giallo di giornata all'indirizzo di La Penna, seguito dal temuto e inevitabile cartellino rosso. Casalbordino in dieci chiamato all'impresa nel secondo atto ancora da giocare ma che si apre sulla stessa falsa riga del precedente con gli ospiti propositivi al settimo con Sparvoli che fa partire una rasoiata da fermo che costringe Tano a smanacciare sul fondo. Al tredicesimo segnaliamo l'allontanamento del dirigente giallorosso Antonietti espulso per proteste. Il morale della truppa giallorossa comincia a scendere fin sotto i tacchi con un atteggiamento sicuramente da rivedere anche con l'ausilio diretto della società. Ci riferiamo ovviamente all'atteggiamento in campo della squadra apparsa senza mordente e soverchiata dagli avversari che vanno ripetutamente alla conclusione. Al quattordicesimo Colecchia trova lo spazio per concludere dal limite ma Tano è sulla traiettoria e non ha problemi ad intercettare la sfera. Pochi istanti dopo è il collega d'attacco Sparvoli a cercare la via della rete ma calcia debolmente e vanifica il precedente regalo difensivo di Baginca. Il raddoppio dello spoltore è in realtà rimandato di qualche istante ma a griffare la marcatura è ancora Colecchia che festeggia il bis personale al culmine di una micidiale ripartenza scaturita da un pallone perso sulla mediana da capitano Galliano e prontamente imbastito da planamente che apparecchia per il compagno di squadra implacabile a spedire la sfera in fondo al sacco per buona pace di Tano che poco dopo viene graziato dalla trasversale che si oppone alla nuova offensiva di Sparvoli favorito dall'ennesima dormita della truppa di casa. Silva Allegra vuole partecipare alla segra del gol ma le due incursioni dell'esterno ospite non riescono a trovare il giusto coronamento. Il terzo sigillo dello spoltore è comunque nell'aria e si materializza al 35esimo con il premio personale che arriva anche per Sparvoli a bersaglio sul filo del fuorigioco approfittando del lancio filtrante di planamente. Quest'ultimo va a sua volta a bersaglio qualche minuto dopo ma la rete non viene convalidata per una posizione irregolare del numero 11 dello spoltore. Sarebbe stata una punizione troppo esagerata per il Casalbordino al quale vanno tante attenuanti ma l'atteggiamento in campo non è piaciuto neanche ai vertici societari che sicuramente adotteranno le adeguate contromisure per risollevare una situazione diventata abbastanza preoccupante. Padron Santoro in una posizione davvero inusuale per quanto riguarda la sua esperienza in campo. Oggi ha seguito il Casalbordino in tribuna. Natalino Ranalli ha messo anche un po' di sale in segno scaramantico ma c'è qualcosa che non va anzi più di una cosa che non va in questo Casalbordino attuale. Ci sono tante cose che non vanno sono venuto a vedere la partita in tribuna proprio per vederla meglio perché in panchina si soffre di più e non si è lucidi mentre invece alla tribuna si riescono a capire tante cose che non vanno ed effettivamente sono veramente tante quindi dobbiamo cospargerci noi il capo di sale e vedere di risalire la china apportando dei correttivi. Alessandro Del Gallo oggi ovviamente è soddisfatto non bisogna non si può che essere soddisfatti oggi perché la squadra ha giocato bene favorita è vero anche dall'espulsione però non ha rischiato praticamente nulla. Ma sì siamo stati bravi perché affrontavamo una squadra che per quanto possa dire la classifica è comunque una squadra che è costruita inizio anno per fare bene e penso che la partita l'abbiamo fatta in maniera non dico perfetta comunque l'abbiamo fatta in maniera buona e secondo me la potevamo già chiudere nel primo tempo anche con il rigore di Luca Sparvoli che purtroppo è andato sul palo. Ci abbiamo messo un po' troppo tempo per trovare il secondo gol che ovviamente loro con un'inforità numerica hanno sofferto un pochettino la nostra situazione di gioco.